Allora cari famosi, siamo venuti a segnarti questo è un bellissimo premio di pregiare il capo, oggi ne abbiamo alcuna copia, e soprattutto ciò colpito di Taluppi, io metterò un fan di Alley Benji, quanto il cappellino a Led Warner e Stazza Fisina a Matteo Senez, e diciamo se i paesi stavano eliminato sicuramente la colpa è fatta tua per interventi sciagurati, errori banali, insomma come giustifire questa cosa. Dopo due partite di discreto livello c'è stato un po' un calo in questa partita, anche se sì ho fatto due o tre uscite poco concrete, però ho salvato, ho tenuto anche la squadra sulla distanza d'un po', però vabbè il risultato è andato così, sono contento di aver fatto tre punti in questo girone di ferro, anche se sera l'avevo, sera praticamente candidati. Ormai che c'è il Gobbo Legge. Sarà candidati per il cucchiaio di legno, ma questi tre punti non ci portano il cucchiaio di legno, sono un po' scontento per questo cucchiaio, almeno se l'ha vinto qualcosa, però insomma non si è fatto male come pensavo. Una domanda, ma perché che è giunta dalle tribune, ma perché il cappello se non c'era il sole? Ormai era perché avevo vinto, avevo portato il cappello e allora ho provato a riportare il mio portafortuna, ma non è servito. Bene, bene, grazie, alla prossima.